Mi sento un'altra persona, mi sento un uomo diverso, mi sento un uomo, mi sento un ragazzo diverso Vai 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 vai, bravo, c'è quel fumo ancora dell'incendio a nord che arriva ancora qua, c'è quella luce strana, un po' giallognola Noi andiamo, ciao! Ragazzi ho trovato il mio nuovo negozio, le persone sono gentilissime, veramente brave Penso che d'ora in poi do la cura, non ci posso credere E poi c'è meno gente, molto più ordinato Ragazzi, un tempo, saluti e baci, ci vediamo magari nella prossima vita Sei bellissimo questo posto, mi fa impazzire Ecco c'è persino la moquette, la moquette, c'è la moquette Questo posto è una figata incredibile, molto più organizzato Andiamo ragazzi Mi fanno impazzire questi centri commerciali, ci sono questi negozietti piccolini L'impressione che viviamo in un paese fuori da Los Angeles, da una città così incasinata come Los Angeles E' bello, mi piace, mi dà voglia di andare fuori a spendere un po' di sole Ragazzi, non potete immaginare come sono contento Nicola ha fatto un bel lavoro, sinceramente, Nicola ha fatto un bel lavoro Bravo, bravo, veramente, ha fatto una bella cosa Nicola forse sbagliato un mestiere Ok, questo era uno dei miei giochi preferiti quando ero piccolino Diventavo pazzo, fa le puzzette Ora facciamo scherzo alle emilia Facciamo scherzo anche a Nicole Nicole e io stiamo ripitturando il bagno You said, and you? I like your hair cut, you look very sexy It's too close No, it's a one angle, look Nicole sta facendo, sta, come si chiama, ripitturando il bagno E io la sto aiutando mentalmente Do you say I'm mental? No, I help you with my support No, you come in and criticize me and then leave But you are a manager of the family Not too much! Let me tell you something, but you don't know the portion, babe No, you don't know anything, babe Babe, but that's gonna be, doesn't give you time to even put the paint on because it's gonna dry inside the hair Can you take this out and throw it away? No, but you understand me, what I say? No, it's done, that's enough Wow Bravo, Nicole You're the best Hey, can I use the restroom a second? Here, go upstairs I need to use this restroom right here Oh my god, I gotta go poop I do not want you weren't pooping him on, didn't I got a poo poo You are disgusting No, go away Grow up See? Now you can look back at your life and realize all you do is fucking bitch at me And continue to tell me how to use the foot Follow me on my channel This's a mess How you guys are watching? Popsi. Oh, la mia stommia è hurtata! Eww, una grande cosa! Vi ciò, vi sovi qui. Ah! Ah! La mia stommia è hurtata! La mia stommia è hurtata! Ah! Oh! Ahahahh! Ahahah! Ahahahah! 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 Poor baby! Stomach hurts! Eeww! Eeww! Questi due aeroplani, per lei e meglia che sono troppo divertenti! Robert! Gomma! 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 Oh, you put it through here! Oh, that's mine! Oh, it's... You wanna do it? All right, let's try it! All right, let's do it! Can Daddy try it first? And you, throw it! Look! Wow! Wow! Oh! Yeah, you're gonna throw it in the sky! Yeah! Wow! 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 I don't know! Eh! Buongiorno a tutti! Oggi Domenica! Il carrello... Il carrello a casa! Oggi, giornata dedicata a finire il carrello! American Lab! Ok! Questo è il carrello! Ora ci mettiamo la barra per la bicicletta! E cominciamo a costruirci un po' sopra! Ok! Quindi, cominciamo i lavori! Andiamo! Io, che abbiamo anche! Ma che faccio! Votre 누구? Votre la basley! Le dici di... Io, che belle? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una frustrazione ragazzi, una frustrazione. Fa caldo o fa freddo? Fa caldo, c'è un vento incredibile ragazzi. Cambiare la camera d'aria, però mi sa prima che mi fermo, vediamo se non c'è tanta gente mi fermo a lavar la macchina. Non c'è tanta gente, dai, vi andiamo. Chi ha calatore con scritto? Patrese. Magari Patrese. Qui. Sir? Which one? The white one? Thanks. Right. 79 dollari. Dai c'è sua. Lavoriamo la macchina, laviamo la macchina. Nicola è un disastro. Thank you. Dai, Mario. Dai, pulita, pulita. Nicola, la macchina è pulita. Bene, vieni, bravo Walter. Ciao. Uff, sta venendo abbastanza bene ragazzi. Voglio fare una panchina qui dietro, che va qui. Una qua, una qua, guardano avanti. Questa qua sarà in mezzo. Lo petturiamo di rosso, invece di più rosso. Questo è il posto per il cooler qua dietro. Lo lanciamo in qualche maniera. Vediamo, magari tiro a vedere le ruote e lo inchiodo dentro. Questo è lo spazio per salire e scendere. Magari faccio due scalettine. E poi qua ci mettiamo una rettina, così i bambini non escono. Qui posso salire con una tendina, perché li metto l'iPad. Faccio un bracchettino con l'iPad qui dietro, così possono guardare i film mentre vogliamo. What? Dovò rinforzare un attimino con la barra sotto. C'è un mio cliente che fa i materassini per le barche. Vado da lui, mi faccio dare un materassino di un centimetro, proprio per tenerlo soffici sotto qua. Poi le luci, tutte le luci di Natale sono arrivate ragazzi, le luci di Natale sono arrivate. Anzi, qui dentro è appena arrivato e stasera più tardi o domani faccio un open box per le luci di Natale su Amazon, che sono veramente cheap. Che queste qua sono luci, luci che vanno sotto la bicicletta. Hanno quattro telecomandini per quattro diverse. Sono waterproof, quindi What's up? Poi faccio l'open e vi scrivo la iscrizione perché li trovate su Amazon, sono veramente poco costosi. Poi altre luci, fairy light, che sono... Che è un secondo? Pazzo. Poi vi apro anche questa. Questa cos'è? Vabbè, li apriamo dopo, dai. Vi faccio vedere, poi metto tutti i link, ok? Stop, stop, sì! Oh! Papi! Eh, 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 eh. Allora, stiamo. Where's your shoes, monster? It's cold. No, it's cold. What do you have to... what do you find? Oh, come on, what do you got? Can you grab the sippy cup as well, bring in car, in a car, in excited house? Come on, Lela, Emilia, eh? Lela, Emilia, eh? Lela, Emilia, eh? Uh! Bye!